Mamma mia ragazzi, parita sontuosa del Milan che ragazzi umilia l'Atalanta dal punto di vista del gioco 2-0, il risultato ragazzi è emblematico diciamo perché ragazzi l'Atalanta non ha fatto niente non ha fatto un tiro in tutta la partita ragazzi sto parlando sul serio, non ha fatto un tiro non ha fatto un tiro in tutta la partita, una cosa vergognosa l'Atalanta è deludente che dopo la sconfitta di Lecce fa la sua seconda sconfitta consecutiva ma che cazzo batte a fare la Lazio per poi perdere con Lecce e poi anche con il Milan così che senso ha vincere con la Lazio e il trasferto? niente, l'Atalanta totalmente, come si può dire con una mancanza di continuità imbarassante allora ragazzi, il Milan ragazzi gioca benissimo finalmente è tornato anche a giocare abbastanza bene a pallone quarta vittoria consecutiva della campionata e Coppa Italia senza prendere i gol e Cempio senza prendere i gol, quindi ragazzi tanta tanta roba non copi dal Cempio, scusate e Moumina che subito dopo un minuto va quasi vicino al gol con Giroud grandissimo tiro al volo, però va alto di poco poco dopo ha un'altra grande occasione con sempre Giroud con un Leao ragazzi che inventa Leao ha fatto un partitone nel punto di vista sulla sinistra scusate, ha fatto impastire Zappacosta che non ci ha capito un cazzo prodotto dalla partita e quando questo Leao è così, come avevo detto, che non è svogliata che ci ha voglia di giocare, è infermabile, è incontanibile c'è senza la voglia, infatti si vedeva ragazzi che il Milan gira e gira bene Leao mette un pallone delizioso in mezzo con il suo solito destro giro per Giroud che con il sinistro è un tiro difficilissimo di controbalzo sfiora il gol, sfiora un grandissimo gol poi poco dopo, sempre protagonista Giroud pallone di Krunic mi sembra a mezza altezza per Giroud che di petto fa una sponda deliziosa per Ternanz che partita migliore in campo con Tio, con Tio sinistro ragazzi, molto molto potente al volo di interno sinistro palo, il pallone va in modo sfortunato sulla schiena di Musso che ragazzi si fa un autogol clamoroso non si fosse buttato, non si sarebbe stato autogol però ragazzi, potrebbe fare ben poco quella è veramente una sfiga clamorosa del portiere argentino e costantinese poi voglio parlare della partita di Tio, di Tiao da quando Tio ha diventato titolare del Milan da quattro giornate il Milan non ha più preso gol sarà un motivo è un giocatore incredibile, ha annullato Hoilund l'ha completamente messo in tasca ha detto, no io questo che stasera me lo metto in tasca così se l'ha messo in tasca non l'ha fatto più scappare clamoroso Hoilund non ha vinto un mezzo di duello con questo gigante ma è una belva come vedo che nella scorsa io ragazzi stravedo per lui l'ho visto tre o quattro partite fa ho detto che è un fenomeno in difesa non fa passare una muscola un cazzo di insetto non fa passare niente niente non fa passare neanche l'ombra degli attaccanti Olin completamente annullato dove tutti i difensori hanno fatto fatica contro il gigante danese lui no tutta la difesa del Milan è comunque andato bene anche Tomori e anche Calulu che si è molto sputtato anche in attacco poi ragazzi il secondo tempo con tante occasioni per il Milan con le auga la risposta di Musso poi su Giroud Musso fa un altro binacolo clamoroso senza lui il passivo sarebbe potuto essere anche 3-4-0 poi Messias si mangia un pazzesco grande azione dopo una folia di etapa cosa che tira contro Ternaldi se poi non resta lì Ternaldi sta a passare dentro le acque fa una sponda molto molto buona col destro per Messias che ha tu per tu col portiere non si sa come calci in culo in culogna in curva lì ragazzi deve fare meglio forse perché era nel piede di Epole poi però poco dopo l'ingresso si tratta di Ibrahim invece che dopo circa un anno dalla sua ultima partita e rientra ragazzi fa delle belle spune fa anche dei colpi di tacco si vede comunque vuole tornare a essere decisivo è un bene anche per il Milan anche per l'uomo spogliatoio poi ragazzi entra anche De Ketler ma sempre molto nervoso molto macchinoso poco a rovo secondo me come giocatore e poi ragazzi ha il gol di Messias in cursa un pallone incredibile di Leao in un varco dove non c'era scavetto di Messias veramente bellissimo Sumus che ovviamente non può fare nulla non ci arriva Toloi su quel pallone ed è due a termina e il presidente si chiude con l'Atalanta che prova gli ultimi assalti non lo ha da fare tanto Boga l'unico che ha toccato qualcosina come anche Toloi che ha fatto molto sortite offensive tornava andava su tornava andava su grande partita di Toloi ma non è bastato la grande gara del capitano per portare a casa neanche un gol neanche un tiro praticamente però bisogna di partita da Toloi e da Boga che hanno giocato bene gli altri malissimo Mila invece tanta tanta roba questo ragazzo è il video vi ringrazio sotto nei commenti cosa è pesato al prossimo video